Per far fronte alle drastiche alterazioni negli equilibri ecologici dell'Arno, la provincia di Firenze ha predisposto una serie di interventi per tentare di controllare i predatori invasi del fiume Fiorentino. Parliamo soprattutto del pesce siluro e del pesce catto. Una recente ricerca ha stimato che il siluro rappresenta l'86% dei pesci presenti nell'Arno. Dallo studio è emerso che questi predatori hanno alterato in modo consistente composizione e struttura della popolazione ittica, compromettendo equilibrio ecologico e fruibilità da parte dei pescatori. Le operazioni di cattura sono assolutamente innocue per gli animali e si compiono tramite elettrostorditore e reti a tramaglio. Gli animali prelevati sono tenuti in vita in acqua per il tempo necessario allo stoccaggio, ovviamente isolato dalle acque pubbliche. Alcuni esemplari saranno poi sottoposti ad analisi per monitorare lo stato di salute del popolamento ittico del fiume.